Guardi, mi ha fatto molto sorridere che l'altro giorno la Presidente del Consiglio dicesse che il PD non vuole questa riforma perché vuole mantenere lo status quo e i giochi di palazzo. Le voglio ricordare che io ho iniziato il mio impegno politico con la militanza dal basso dieci anni fa contro le larghe intese e quando io ero ancora all'università lei era già dentro il palazzo. Cosa c'è di male a farsi eleggere direttamente dal popolo? C'è di male che una riforma come questa indebolisce i poteri del Presidente della Repubblica che ieri hanno gravemente attaccato parti della maggioranza del governo di Meloni. Non Giorgia Meloni, non Giorgia Meloni. Però ha aspettato 48 ore per parlare, io lo trovo molto grave. Non è mai successo che nel giorno della festa della Repubblica un partito di maggioranza attaccasse frontalmente chiedendone le dimissioni il Presidente della Repubblica. Ha smentito Giorgia Meloni, ha smentito il suo alleato e Salvini si è ridimensionato perché il problema è che siamo andati tutti incontro. può giocare sulle dimissioni, ora obiettivamente. Siamo andati tutti dietro alle dichiarazioni di Claudio Borghi che naturalmente è molto pittoresco e ha delle tue idee comunque compensibili ma che non si identifica. Non ha preso le distanze, però rimaniamo al tema del premierato. Grazie. Grazie. Grazie.